cari amici si torna a parlare di palacanestro americano nba siamo giunti finalmente all'all star game si è svolta nelle prime ore di questa mattina la partitona racing star team usa contro team mondo world ha vinto team usa per 151 a 131 cronologia dell'incontro avanti gli ospiti 39 a 30 nel primo quarto nel secondo sempre gli ospiti 81 71 nel terzo iniziano bene gli ospiti poi sorpasso del team usa 115 a 105 e nel finale dilagano il team usa 151 a 131 vittoria del team usa quotato favorito nel 41 e 31 1 e 42 per quanto riguarda le statistiche giocatori il nostro connazionale italiano niccolò melli ha realizzato tre punti ha giocato circa un quarto d'ora invece quelli che hanno segnato di più sono stati barrett team mondo 27 punti pascal team stati uniti 23 clark team mondo 22 punti quindi concludo e chiudo il team usa batte il team world nella sfida racing star 151 a 131 ciao a tutti